Imponente operazione di polizia all'alba di oggi in via lago di Capestrano nel quartiere Rancitelli di Pescara per lo sfratto di alcuni occupanti abusivi delle case popolari. In azione uomini della polizia di stato, carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco, sanitari del 118, personale di Enel e Ater. Presente in via lago di Capestrano anche il vicepresidente del consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che sabato scorso era sceso in strada con alcuni residenti in via lago di Borgiano a due passi da via lago di Capestrano per denunciare il problema degli sfratti e della criminalità e soprattutto dello spaccio di droga nel quartiere. Dopo tante battaglie noi siamo riusciti a far mettere in bilancio regionale 400 mila euro per lo sfratto degli occupanti abusivi. Purtroppo con questi sono fondi esigui e si possono fare solo 20 sfratti. Ho chiesto di colpire esclusivamente delinquenti, criminali, pregiudicati. Non so chi è stato colpito oggi, io mi auguro solo che non sono stati colpiti i poveri anziani morosi. Ecco, se si colpiscono i delinquenti va bene, questo lo verificheremo. Quindi un primo inizio, sì, mi dicono che ci sono stati solo due sfratti, molto poco. Facciamo i numeri. Nella provincia di Pescara noi in questo momento abbiamo 250 occupazioni abusive. Le immagini che oggi sono stati fatti due sfratti. Un inizio, sì, sicuramente un inizio, ma qui c'è ancora Fontanelle, via Caduti per servizio non è stato fatto nulla. Via Rigopiano, quartiere caldissimo non è stato fatto nulla. Il ferro di cavallo qui vicino non è stato fatto nulla e abbiamo altre zone calde. Comunque, è un inizio, sì, tante battaglie pagano. È un inizio, non dobbiamo mollare però. Bisogna continuare a combattere a testa alta e con la schiena dritta, anche rischiando la propria vita a volte. Qui voglio vedere polizia, carabiniere, guardie di finanza. Loro sono addestrati. La polizia municipale non è messa nelle condizioni di fare la lotta al crimine. Non serve per fare la lotta al crimine. Loro possono fare un punto di informazioni, va bene, ma io voglio vedere quelle macchine lì, della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, presidi fissi, anche con l'esercito. Solo loro sono in grado di fare la lotta al crimine perché sono equipaggiati. La polizia municipale non ha neanche i guanti antitaglio, quindi io vado a tutela della polizia municipale. 250 abusivi in provincia di Pescara rappresentano un numero enorme proprio per questa provincia. Enorme, enorme. Purtroppo la maggior parte di questi sono criminali pluripregiudicati che esercitano violenza. Perché io mi accanisco? Consentitemi il termine ai confronti di queste persone. Perché tanti di loro esercitano violenza sulla gente onesta e la gente onesta non riesce più a vivere. Qui c'è bisogno di coraggio, di coraggio e di fermezza. Perché se c'è coraggio si può combattere il crimine, se non c'è coraggio non lo possiamo fare. Quindi, ripeto, ora, quando andranno via tutte queste macchine, qui ci sono polizia, carabiniere, due sfratti, qui tornerà tutto come prima. Quindi, che cosa serve unitamente allo sfratto? Lo sfratto va bene, ma cosa serve? Unità fisse di polizia, presidi fissi H24. Perché oggi pomeriggio che andiamo via tutti, non c'è più nessuno. E il cittadino onesto rimane solo. Questo è il problema.